Musica Martedì 7 febbraio, buongiorno con ETRG Mattina, la rassegna stampa dei quotidiani in edicola subito con le prime pagine, aperture di taglio diverso a partire dal Corriere dell'Umbra e pendolari fregati dall'algoritmo, si parla di trasporto in un approfondimento che vedremo tra poco e poi da terni letti nei corridoi, l'ospedale è nel caos, la prima pagina del dorso Umbro della Nazione ciao turista, la grande fuga, l'effetto terremoto ha contagiato l'intero territorio regionale penalizzando anche molte zone lontane dall'area del cratere, mai toccate dal sisma a proposito di terremoto un aggiornamento anche nella notte, 7 scosse la più forte di magnitudo 3.7 nella zona del cratere, trovate tutte le informazioni nel nostro portale trgmedia.it andiamo avanti con gli altri titoli, abbandonano il bimbo nell'auto, a Sissi paura per il piccolo di due anni i genitori erano andati in visita a Porziuncola con il messaggero, la prima pagina vince la causa ma non c'è più il posto, operaio agricolo batte in tribunale una società controllata dall'ex comunità montana del Trasimeno, ma la ditta in liquidazione la vittoria diventa una beffa, 9 spacciatori nel locale etnico, siamo a Perugia, poi l'Aster dannosi per la vista condannati 3 commercianti, il meteo tempo variabile fino a giovedì, questo il risponso dell'esperto e poi gli spettacoli parte Sanremo, ci sono due Umbri, Valeria e Michele, l'Umbria che sorride a Sanremo noi torniamo al Corriere dell'Umbria per l'esame delle pagine regionali, dicevamo di questo approfondimento sul sistema dei trasporti, abbonamenti, la beffa va avanti da 10 anni, si paga dal 20 al 33% in più di quanto dovuto giusti le pendolari, cornuti eppure bastonati, caos tariffe sulle tratte sovra regionali tutta colpa di un algoritmo, aumenti fino al 33% e poi riaprire il tavolo con Trenitalia e le associazioni la doppia manifestazione dei 5 Stelle, arrestazione di Perugia Eterna, appello dei parlamentari alla governatrice Marini intanto c'è preoccupazione su Umbria mobilità, binario morto, il titolo del Corriere, bilancio non approvato il timore della liquidazione sempre più forte, 80 milioni in bilico e nel dettaglio manutenzione fortemente carente, servono 600 mila euro proprio per la ferrovia in particolare ragazzini terribili, denunciati 4 casi di bullismo online, minori e violenze, i dati della Polizia Postale dell'Umbria che vengono diffusi nel giorno in cui appunto si alzano i suggerimenti e la protezione e nonché il livello di conoscenza su questo fenomeno, una giornata appositamente dedicata alla lotta a questi fenomeni di devianza, nell'Umbria nel 2016 ci sono stati 4 casi di cyberbullismo, il bullismo della rete dai dati della Polizia Postale nel 2016 emergono 12 casi di pedopornografia, 8 perquisizioni, 6 persone deferite dall'autorità giudiziaria, 102 spazi web monitorati, 47 siti a carattere pedopornografico inseriti nella black list su devianze giovanili appunto il prefetto Cannizzaro in prima linea, la sala dei notari, la firma del protocollo oggi pomeriggio al lavoro un gruppo di tecnici per prevenire il fenomeno, dicevamo della zona del cratere sismico una novità da Norcia, la terra restituisce ossa, arrivano gli archeologi recuperati a stato del 500 nella chiesa di Frascaro e poi incentive, si parla di fenomeno migranti e di accoglienza, incentive comuni che prendono i migranti chi dice no sarà penalizzato, illustrato a Terni il nuovo piano nazionale, numeri certi e proporzionati ai residenti e poi la proposta dell'Erasmus Over 60 lanciato dall'assessore al turismo del comune di Assisi Guarducci ora anche i sindaci si mettono in gioco, presciutti il sindaco riguardo Tadino pronto a dare il suo contributo con tutta la fascia appenninica con nella nazione, nelle pagine nazionali, torniamo a Norcia il sindaco incontra gli sfollati, nessuno verrà lasciato per strada a fine marzo scade la convenzione per l'ospitalità negli alberghi ricostruzione complessa ma dobbiamo remare tutti nella stessa direzione dice il primo cittadino e poi la zona rossa si riduce ancora intanto spuntano frammenti ossei come abbiamo detto firmata l'ordinanza del primo cittadino prima pagina dedicata al turismo rimettiamoci in moto il titolo si punta sui centauri perché nella prima fine settimana di marzo nella prima fine settimana di primavera il 25-26 marzo l'iniziativa si chiama Lumbia si rimette in moto il 25-26 marzo si parte rassissima riguarda tutta la regione occhio qui il comparto muore la primavera sarà decisiva sale il grido allarme di Vincenzo Bianconi di Feder Alberghi siamo stati penalizzati da una comunicazione generalista che ha causato il crollo di presenze tra l'altro Bianconi proprio i centri di interesse delle sue attività sono proprio nelle zone del cratere sismico ma ovviamente parla come rappresentante di Feder Alberghi a livello regionale San Gironamo spaventa i visitatori siamo a Perugia buche e rischi tra il ponte e il centro ancora con le pagine regionali andiamo al messaggero per gli spunti che arrivano nelle pagine dedicate appunto a tutto il territorio regionale il turismo va giù dopo il sisma servono soluzioni l'intervento di Leonelli del Partito Democratico e del Consiglio regionale e poi una curiosità quando la Marcord si chiama Radiologia rimpatriata sul filo dei ricordi dei tecnici che hanno contribuito a fare la storia di 20 anni del Policlinico di Perugia di nuovo al Corriere dell'Umbria per le pagine dei comprensori partiamo dal capoluogo Perugia si parla dei rifiuti di raccolta differenziata porta a porta in tutto il comune entro l'anno in città la differenziata si attesta al di sopra degli obiettivi posti dalla regione e Barelli fissa un nuovo traguardo nuova accusa agli uffici sulla vicenda Agriflor confronto serrato in commissione controlle e garanzie sui problemi legati all'azienda di Villa Pitignano dai tribunali meglio la galera almeno mangio così aveva risposto ai carabinieri che lo avevano sorpreso a rubare confessione e assoluzione in tribunale ma ben diverso il caso di molestie e danni di una dipendente io palpeggiata e insultata dal capo alla sbarra il suo ex datore di lavoro 67 anni le molestie a sfondo sessuale si sarebbero consumate all'interno dell'esercizio pubblico ancora con i comprensori ci spostiamo ad Assisi o meglio a Petrignano con la ringhera sul chiascio che è stata rimontata ma il degrado continua il Corriere dell'Umbria Città di Castello ieri giornata significativa con l'inaugurazione della nuova TAC la Sanità Alto Tiberina gode di buona salute e brinda alla nuova tomografia in arrivo un acceleratore lineare l'adeguamento della sala parto due posti letto in più a medicina d'urgenza rivisto il pronto soccorso tutti annunci tutti fotografie dell'iniziativa in cantiere per la sanità del territorio alla presenza dei vertici regionali ma anche istituzionali il particolare per il paziente meno radiazioni ionizzanti e poi scorronacque polemiche accese dopo il fine settimana che ha visto i problemi appunto sul fronte della fornitura idrica il giorno di San Valentino faccia a faccia tra amministrazione comunale i vertici di Umbra per fare il punto una sorta di resta dei conti e poi consegna e le dolce per la cena mentre sale gli rubano l'auto succede ad Umberti retopi d'appartamento scatenati via Roma nel Mirino andiamo a Gubbio i lampioni ci sono ma funzionano a nottate alterne un pezzo di città e alcune frazioni restano al buio i disagi segnalati a Semonte Padula e via Perugina Mocaiana e San Marco nella zona est invece si accendono di giorno e poi il particolare i frammenti del muretto andrebbero rimossi siamo in Piazza Odarisi in attesa dell'intervento annunciato della ditta per la riparazione dei danni provocati i commercianti e residenti chiedono appunto un intervento provvisorio per ragioni estetiche ma anche di ordine pubblico e poi una notizia importante grazie alla generosità della gente va a curarsi negli Stati Uniti raccolti oltre 50.000 euro per un giovane di 20 anni che è rimasto oltre ceno per due settimane la raccolta di fondi promossa dall'associazione delle associazioni quella realtà solidale che raccoglie appunto diverse associazioni di tutto il territorio e che ha promosso una raccolta a fondi mirata appunto per questo intervento con un per appunto per far fronte ad un intervento che necessitava di 58.000 euro ne sono stati raccolti bene 50.000 il resto fornito appunto dalla stessa dallo stesso organismo ancora dall'universo dei veglioni ceraioli è andato in scena quello di San Giorgio ebbene Laura Gnagne Miss San Giorgiara 2017 è stata incoronata al Cricos nel corso dello straordinario veglione è finito alle 6 di mattina poi energia i rifiuti diventano fonti di risparmio la CNA dice pure come si può fare Gubbio Motori premiata a Torino per il raduno Alfa Romeo 2016 andiamo a Gualdo serata conviviale per dare una mano al centro riabilitativo Il Germoio appuntamento sabato prossimo al castello di Baccaresca con ospiti e amici della struttura L'Avis Adriano Pasquarelli si prepara a rinnovare vertice delegati provinciali assemblea comunale il 18 febbraio a partire dalle 16 a Foligno buio in città tra disagi e proteste una serie di guasti dietro la mancanza di luce in centro storico l'Enel precisa tecnici al lavoro il comune invita a segnalare eventuali criticità intanto la media Carducci demolita entro la fine del mese già iniziato il trasloco del materiale scolastico nell'ottica dell'intervento appunto di messa in sicurezza delle situazioni più difficili e poi multa salata all'ambulante abusivo che vende caffè e snack sui treni la polizia è intervenuta dopo specifiche segnalazioni la solidarietà lega il cassero a massa profoglio il rione donerà al paesino marchigiano un modulo abitativo seconda pagina di Foligno nell'area del vecchio ospedale arrivano 60 alloggi a canone scontato il progetto prevede la realizzazione di edifici residenziali e negozi che invece saranno messi in vendita titolo di Spoleto il rilancio turistico passa per la ex ferrovia da Terri rabbia nei medici ospedale nel caos eccoci alla Nazione con le pagine regionali detto dell'approfondimento sul turismo c'è la cronaca dal tribunale ragazza molestata mentre lavora barista a giudizio insulti e pesanti frasi sessuali una volta eravamo rimasti io e lui all'interno della cucina del locale mi toccò il seno alcuni particolari della sua deposizione e ancora al setaccio night negozi atnici scovati pregiudicati e droga e poi sconfiggere il cyberbullismo incontro con gli studenti è una delle iniziative di questa giornata per la sicurezza in rete ancora cronaca vanno a visitare la porziuncola ma dimenticano il bimbo in auto il piccolo piangeva l'allarme da un passante genitori denunciati Perugia Turreno il comune ha deciso via libera il progetto da mille posti si parte con il restyling di palco e platea per non perdere i fondi intanto Perugia 1416 porta Susanne in difesa del titolo ancora con Perugia rifiuti barelli contro il suo dirigente a gonfie vele la raccolta in centro ed euro cioccolate che si fa amaro il comune batte cassa avvisi per 313 mila euro sulla TOSAP Movimento 5 Stelle chiede chiarezza andiamo ad Assisi la piscina dei desideri resta chiusa così si scatena l'opposizione Bartolini Ferroni e Fortini parlano di promesse disattese a Gubbio torna in campo l'associazione Ada aiutiamo quel ragazzo a guarire raccolti 50 mila euro ma ne servono altri 7 mila il punto della situazione nella giornata di ieri e poi se la storia è teatralizzata lo studio è più facile siamo a Gualdo divertente esperienza didattica per gli studenti al polo museale Città di Castello ospedale inaugurata la nuova TAC diagnosi più precise e tempestive il direttore generale Casciari a breve acquisiremo un acceleratore lineare nel 2016 effettuati 10.187 esami di cui 5.244 per pazienti ambulatoriali 1.893 per ricoverati da Umberti ne abbiamo visto ladri scatenati svaliggiate due abitazioni e poi ancora la città di Castello Michele Bravi sì sono pronto domani sarà sul palco dell'Ariston l'artista tifamata si esibirà con i big della seconda serata canterà il diario degli errori tra gli autori anche Mogol Junior ancora l'associazione cardiopatici venita la giornata della prevenzione appuntamento per domenica 19 febbraio a Foligno il vecchio ospedale cambia volto negozi 60 appartamenti sociali un complesso di 7.000 metri quadrati pronti entro maggio 2018 le ferrovie stazioni intelligenti sì ma i lavoratori vanno tutelati la FIT CIS solleva il caso degli addetti alle pulizie per 100 stazioni e poi rapirono un imprenditore a spello due romani condannati a 7 anni sullo sfondo una storiaccia di denaro sporco da riciclare a far partire le indagini il congiunto del sequestrato qui era stato chiesto il riscatto una banda di 6 persone e poi la strage alla Umbraoli rischio prescrizione lo sfogo della sorella di una delle 4 vittime che chiede aiuto messaggero Perugia San Marco riecco i vandali all'opera al percorso verde sono stati diventi nuovamente cestini e pali erano stati sistemati di recente dei volontari parco sfregiato anche con rifiuti a terra i residenti dicono così è davvero una vergogna fonti vegge 9 spacciatori in un solo locale allerta nuovi push a reprevenzione antiterrorismo supercontrolli alla stazione fermati pregiudicati da fuori irregolarità in alcuni shop etnici per musica e canone tv scoperto anche nightclub mascherato da circolo culturale questo bilancio di intensa attività di controllo e repressione poi da Sisi lo abbiamo visto lasciando il figlio in auto denunciati da Umberti di furti a Raffica a Gubbio via Perugina al via ai lavori ma la pioggia ferma ancora l'intervento e da Marsciano altre proteste per il bus che salta le fermate andiamo a Foligno come sempre per concludere le pagine dei territori parrocchie parrocchia di Colle San Lorenzo fedeli in fermento per la chiesa del borgo collinare danneggiata dal sismo si chiedono i tempi di riapertura e la portata degli interventi e poi il paninare abusivo in treno scatta la maximulta e trevi esce dal corpo unico della municipale l'aggregazione appunto tra comuni vicini e poi proseguiamo con l'economia torniamo al Corriere dell'Umbria gli spunti che arrivano in questo ambito in ambito appunto economico quello che abbiamo visto la proposta sull'Erasmus ora anche i sindaci si mettono in gioco per proseguire ancora con le sfide Umbre riportate nel quotidiano la nazione gli appuntamenti e le rilevanze le eccellenze che arrivano nonché le situazioni di criticità come la centrale Enel che è in stand by siamo a bastardo è il ministero a decidere nuove speranze per sindacati e lavoratori il Mise riapre i cancelli fino a data la destinata di qualificazione in attesa con il messaggero andiamo alla pagina di giorno e notte per la cultura e gli spettacoli per una notte assisi diventa come Buenos Aires il maestro Roberto Herrera proporrà giovedì al teatro liric inizio alle 21 e il tango l'opera in due atti dedicati ai virtuosismi del del ballo e poi Valeria Michele l'Umbria sboccia a Sanremo come abbiamo come abbiamo visto nella pagina di approfondimenti sui fatti regionali da Castello ci inaugura la nuova attacca la seconda più importante della regione chiudiamo con la cultura degli spettacoli del Corriere dell'Umbria per una notizia Dario e Franca in tv li racconta Jacopo Fo il figlio del premio Nobel lei della grande attrice ha curato le 25 puntate che andranno in onda da lunedì su Rai 5 spazio anche all'annuncio appunto dello spettacolo di giovedì all'iric di Assisi dedicato al tango noi ci fermiamo come sempre per un breve stacco pubblicitario tra poco di nuovo insieme con lo sport